Io ho avi e mi piace come mi peghi quattro Com'è? Non vedo la palla qui dentro io Ah, stai ritornando? Ah, per forza perché ho cominciato a giocare allora Tu capisci? Per te vi dà Se ferma troppo, sai comodo Il biglietto Non è il biglietto Se mi torla un attimo Se si torla un attimo Se si torla un attimo Se si torla un attimo Non ci piace quando... L'aria non è bella Che senti? Tra noi ... ... ... ... è la mia figlia, ha messo la zambetta e no ho fatto troppo e tre volte che scaccia la parte e non ci fa, ma non ci fa e non ci fa, ma non ci fa mi piace qualche cosa e non ci fa vai sergici bello bello, bravi ma chi è che ha tirato, bello 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 o ha fatto il peccato che non è giusto dentro ma noi costadiamo le azioni no, non va dentro eh eh tu sei in 2002 ferma un attimo Mercuriglietto qui stiamo giocando a calcio vieni con firme porno che è importante mettiamo qui qui Borcodiglietto dobbiamo solo, scusate, vedere le azioni che vuoi mettere sempre dentro Borcodiglietto è un maniaco dobbiamo vedere le azioni e basta bello 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 io, spara a porta a Portoglietto oh, meritava, chi è che ha fatto tutto quanto quello soppietto bravo 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 è bravo questo lì è bravo non devi buttare via la balla devi fermarla e rigiocarla capito? se tu la butti eh no bravo ma già hai anche uno che andava addosso ho capito non si butta via mai la balla devi giocarla lungo la linea perché non c'era nessuno lungo la linea la linea è un problema bravo sai che è che fa tutti i passaggi e tutti i curti eh, beh, dovrebbero allungarli delle 4.5 no, non è niente vai, non è niente dai 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 credeci dai Io qui da spazio, visto lì tipo bulldozer Bello, ho una chissardella Guarda che fili ha diviato la botta 2002 2002 Che poi da dicembre 2002 C'è uno da dicembre 2002 Non è che... Praticamente potrebbe giocare con il 2003 20... non so quando Stavo a fare i cartelli Porca miseria del passaggio lì Ma guarda eh No, però Marco, devi capire che i passaggi piccoli Non vado, bisogna allungarli Si basta Ma perchè yoga là, hai capito? Yoga su quello che al giotto là Yoga a pallone, diverso Allargati, allargati Viva Lecce Mare Nicolò Se scambio, se scambio Scusa, dai Martel Resta va Arriba Ma porco digni, si scambio e scazzio Scusa Vai di qua, vai Dai 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 Veloce! Veloce! Corri! In girene con tutti i piedi, tutti e due i piedi! Tutti e due i piedi! Mi sono i cuno! Porca miseria sta a tornare guarda tu no? Va bene! Vai Matti! Porca miseria che occasione! Nooo! Vai Sergiccia! Gli hai detto vai Sergiccia adesso è ancora un segundio! Vai vai vai! Entra la passaggita lì Titti e meno male va! Ooooooh! Vedi che ci siamo sbagliati! Stai vedi dall'avversario! non è io che mi ha fallo dai, dai lunga fallo crescendo sulla fiancata buono buono Marco bravo ancora bravo il fatto è e spara no, non giurai solo il piede su tira vai Matti guarda a me Marco ma dai che l'eserci mi ha fatto stare se mi ha fatto il mio cuore la mano ma allora ho fatto che mette due gioca la palla no, ma guardate stava fuori guardinetto via di giro si eh, sui giornali c'è scritto c'è vera piatto ma c'è la palla oh c'era la palla qui l'allenatore c'era 17, non 17 anni ma c'era la palla c'era la palla se la stupava uno, due uno, due come ti andavo a scattare ma è che roba tattattattà con il cinema qui stava la io e segnava e le mangiate si fa già le giughe qui lì sempre capito ah io pure dai ti ammettete là che ti è zitta te chiappa lascia io che è lui squadrona da prima sì, prima assoluto ma c'ha tutti i guardacci del 96 96 98 97 32 di secolari 94 95 chiaro 94 è in prima categoria che è l'anticorla promozione già hai capito no te la faccio te la faccio promozione ha 19 anni dico l'università ha 19 anni è finito o no ormai devi camminare devi camminare devi camminare se no no lasci il bel non ci va a prendere il mio eh la mia la mia è l'eserina non ci sta fatta niente l'aglio è il peggio della mia è difficile spavare lui non è che non ci si sa fare il discorso che vi ambarano a parte si gira tanto tu con il mio bello te lo ti stupo l'aglio vai si so però tu devi imparare in questo sistema sennò vanno un ballo di balla quindi a cucine non c'è gioco devi vedere anche la visuale se tu devi la balla la butti su chi cazzo sta facendo la giocata per me batti i rivaggi invece il cucine devi andare là comunque adesso non allargano più la balla non so che è cambiato ma stanno giocando in un modo brutto vediamo come ti ha potuto la stanchezza non è proprio per recuperare la balla gliela dai? adesso anche prima c'è di tirare più forte sono tutti distracchi più meno potenti non è sempre un grado potenzialmente qui guaglio si ha finito? No, no, fanno